Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale, io sono Giorred e oggi parliamo del grande fratello Vip, ecco il nome del presunto amante per una notte di Natalia Paragoni. Tengo a precisare che questa è un'ipotesi fatta dal web e non è una notizia confermata. Ormai nella casa dopo il crollo di ieri di Andrea Zelletta si parla meno del gossip su Natalia Paragoni, che ha suscitato non poco interesse sia nella casa che al di fuori. E' proprio al di fuori che è scattata nel web il gioco, se vogliamo chiamarlo così, trova il presunto amante di Paragoni. Su web infatti sono iniziate ad apparire foto e indizi riguardanti al nome del presunto amante di Paragoni, che potrebbe essere Leonardo del Vecchio. Il web avrebbe intuito questo nome durante una conversazione fra Giacomo Urtis e Zordi. Quest'ultimo avrebbe detto che il nome del presunto amante fattogli dal GFino era un suo compagno di classe. Unendo gli indizi, gli utenti del web avrebbero visto in Leonardo del Vecchio l'ipotetico flirt di Natalia. In rete sono anche circolate foto dell'evento incriminato di fine agosto a Capri, in cui sia Paragoni che l'imprenditore erano presenti. Leonardo Maria del Vecchio è figlio del secondo uomo più ricco d'Italia, Leonardo del Vecchio, fondatore di Luxottica. Al momento, come ho già detto all'inizio del video, è tutta un'ipotesi fatta dal web, ma per il momento non si è vista nessuna smentita sia da parte di Paragoni che da parte di Del Vecchio. E voi? Che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Jored.